Avrebbero allestito un negozio della droga nel quartiere Tamburi a Taranto se persone sono state arrestate dalla polizia di Stato. Dopo l'incontro romano con il ministro delle imprese Urso per l'avvertenza Exilva, i sindacati metalmeccanici restano in allarme. Forte lo sconcerto nei confronti dell'azienda che non ha partecipato all'incontro. Lunedì sarà sciopero di quattro ore in tutti gli stabilimenti. Presentata nella sede della Camera di Commercio di Taranto la nuova guida a servizi, commercio estero ed internalizzazione in primo piano. Ancora ben trovati, consueto appuntamento con l'informazione di Taranto e la sua provincia in antenna Sud News. Avrebbero allestito un negozio della droga nel quartiere Tamburi a Taranto se persone sono state arrestate dalla polizia di Stato. Un vero e proprio market della droga nel rione Tamburi a Taranto con orari di apertura e chiusura e che avrebbe risentito delle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19. Sei persone sono state arrestate, tre in carcere ed altrettante ristrette ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Taranto. ed altre due risultano indagate. L'accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio che riguardava sia lo spaccio al minuto che operavano all'interno di un vero e proprio market dello stupefacente sia attraverso le forniture nei confronti di ulteriori soggetti dediti a loro volta all'attività di spaccio. Quindi si trattava di soggetti che gestivano una piazza di spaccio nella zona Tamburi e dei soggetti che procacciavano e rappresentavano fonti di approvvigionamento per altri spacciatori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero venduto più di 13 kg di droga in particolare hashish per un ricavo superiore a 122.000 euro tra il 2020 e il 2021. Dalle indagini emerso che ad occuparsi dell'approvvigionamento della droga e predisposizione delle dosi sarebbero stati un 38enne ed un 36enne. Gli altri indagati avrebbero avuto il compito di venditori della droga mentre il figlio dell'unica donna indagata, compagna del 38enne, avrebbe avuto il ruolo di custode della sostanza stupefacente. Fondamentali ai fini investigativi le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le perquisizioni che sono state effettuate nella giornata di oggi hanno consentito di accertare che all'interno di quel locale che veniva utilizzato come supermarket della sostanza stupefacente ci fossero delle tracce riconducibili ad almeno 30 panette di hashish. Quindi documenta sia l'attualità dell'attività di spaccio che la quantità importante di sostanza smerciata. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei sei indagati è stata emessa dal GIP del Tribunale di Taranto. Torniamo a parlare ancora una volta del siderurgico ionico perché dopo l'incontro romano di ieri con il ministro delle imprese Urso per l'avvertenza, appunto Exilva, i sindacati metalmeccanici restano in allarme. Forte lo sconcerto nei confronti dell'azienda che non ha partecipato all'incontro. Lunedì sciopero di quattro ore in tutti gli stabilimenti. E' sciopero in tutto il gruppo, in Asselo Urmita, perché l'incontro di oggi l'azienda non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi alla tavola e a negoziare, a confrontarsi con il governo e con le organizzazioni sindacali. Le parole di Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM CGL, riassumono perfettamente la delicatezza del momento e la preoccupazione della triplice sindacale. La parola d'ordine è sciopero per quattro ore nella giornata di lunedì 21, proclamato da FIM, FIOM e Wilm in tutti gli stabilimenti di Acceglieria d'Italia. Il primo incontro con il ministro delle imprese Adolfo Urso è stato comunque apprezzato per le buone intenzioni espresse dal governo sul futuro della fabbrica, ma è cresciuto ulteriormente l'irritazione per la mancanza di rappresentanti del management di Acceglieria d'Italia all'incontro, a maggior ragione dopo il blocco delle 145 aziende dell'appalto deciso nello scorso fine settimana. Lapidari è in merito la nota sindacale unitaria. Il vertice, dicono, non ha consentito concreti passi avanti per il merito delle questioni aperte, non fosse altro per l'assenza dell'azienda al tavolo. Sei le richieste fondamentali avanzate da FIM, FIOM e Wilm, controllo statale dell'azienda, ritiro del blocco delle imprese dell'indotto, riequilibrio delle relazioni sindacali, costituzione di un tavolo permanente, conferma dell'integrazione al reddito per i lavoratori di Ilva e N.S., salute e sicurezza negli stabilimenti. Nel frattempo si sciopererà per tenere alta l'attenzione, mentre Franco Bernabè, presidente di Acceglieria d'Italia, ha annunciato a giorni un incontro tra Stato e Arcelor Mittal, per comprendere una volta per tutte le reali intenzioni del socio franco-indiano. Un primo riconoscimento ad una battaglia di popolo, di un territorio, commenta così il sindaco di Grottaglie, Ciro Adalò, la sentenza di primo grado di giudizio nel processo sulle presunte tangenti per l'ampliamento della discarica grottagliese. Non eravamo né visionari né matti, un ringraziamento che ha voluto far chiarezza, approfondendo la vicenda dell'ampliamento della discarica di Grottaglie in località Torre Caprarica. Sono le parole utilizzate dal sindaco di Grottaglie, a margine della sentenza di primo grado del processo nato con l'inchiesta denominata T-Rex, con la quale la Guardia di Finanza inquadrò un presunto giro di tangenti alla provincia di Taranto. Lui, il sindaco che proprio ai nostri microfoni diceva nel 2018 Questa procedura merita maggiore attenzione. Ma qualcuno queste cose in provincia le guarda? Non diciamo nulla, dice Ogidalo, trattandosi ancora del primo grado di giudizio, ma è un primo riconoscimento prosegue ad una battaglia di popolo, di un territorio. Questa sentenza di primo grado, che per carità subirà sicuramente gli effetti di un appello, di una cassazione, quindi staremo a vedere, ma che in qualche modo attraverso una sentenza di condanna così importante dà un primo riconoscimento a quelle che erano i dubbi, le perplessità su un procedimento amministrativo che era sin da subito stato contestato da me e dai cittadini e che ritenevamo fosse inizialmente solo illegittimo, poi di fatto ad oggi risulta anche illecito. Ecco, non eravamo in quell'occasione dei visionari, non eravamo dei matti, eravamo solamente persone che con il buon senso dicevano che quella discarica non si doveva fare perché era illegittima e quindi lo rappresentavamo in tutte le sedi. Nessuno è colpevole finché non c'è la sentenza di terzo grado, quindi la Cassazione lo dirà, ma intanto è un primo riconoscimento ad una battaglia di popolo, una battaglia di territorio. Insomma, ci vedevamo bene, questo è il senso. È stata presentata nella sede della Camera di Commercio di Taranto la nuova guida servizi, commercio estero ed internalizzazione in primo piano. Guida ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione. È il nuovo strumento che la Camera di Commercio di Taranto mette a disposizione delle imprese e che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Una nuova, utile guida per gli imprenditori, soprattutto per quanti operano nel commercio estero. Questo tipo di strumenti divulgativi viene molto apprezzato dalle imprese che a volte sono in difficoltà proprio sull'informazione di base. Siccome il settore internazionalizzazione è un settore molto importante per il nostro territorio, abbiamo ritenuto, approfittando di una misura di intervento nell'ambito di un PON, di poter finanziare anche questa piccola guida in maniera tale da divulgare tutte le tipologie di servizi. La nuova guida è disponibile presso la Camera di Commercio di Taranto, contiene tutti i servizi offerti ed è disponibile anche in versione online. Questa guida ha lo scopo di informare e consentire ancora di più alle imprese tarantine e della provincia di Taranto di poter usufruire di tutti quegli strumenti che gli consentono di poter lavorare attraverso l'esportazione all'estero dei prodotti del nostro territorio. Siamo entrati nel cantiere dell'antico palazzo tarantino Troilo. Vi mostriamo come si sta lavorando e cosa dunque diventerà, ovvero un hub culturale ma anche ristorante e bar panoramico. Questo è il locale che sarà destinato alla ristorazione, si estende per buona parte del piano terra e come vediamo è una struttura molto antica, già in qualche maniera era stata riqualificata e consolidata negli anni e adesso si porterà a termine con tutta la parte dell'aperto impiantistica e di rifiniture. Questo è un altro spaccato che è il bookshop. Siamo a circa 5 metri sotto il livello stradale. Come si può vedere si intravede il banco di roccia calcarea proprio della città vecchia naturale. Questo è il bigoletto che poi dà accesso sempre su Via Duomo e una volta ultimato verrà riaperto al pubblico transito. Conserva miracolosamente ancora i suoi colori questa splendida cappella, uno tra i tesori che custodisce Palazzo Troido, costruito tra il XVIII e il XIX secolo nel cuore dell'isola antica di Taranto. Ci troviamo in Piazza Duomo. Questo è il secondo palazzo storico per il quale sta per partire ufficialmente un cantiere di riqualificazione dopo Palazzo Nuove Lune. Noi siamo già in grado in esclusiva per voi di entrare all'interno per mostrarvi tutti i suoi segreti. Che cosa diventerà? Questo palazzo è interessato da un finanziamento di circa 5 milioni di euro che ha come obiettivo quello di riportare alla luce le sue parti storiche più importanti come la cappella, gli affreschi che ci sono ma anche le parti sottostanti e il terrazzino che è bellissimo, ha gli affacci a mare e quindi sarà un utilizzo di consegnato alla frubilità pubblica della città. L'architetto Cucinella insieme a un pool di ingegneri e tecnici locali ha lavorato per rimettere in luce, verrà realizzato un bookshop una zona co-working, una zona di sviluppo culturale il terrazzino consentirà lo sviluppo anche di eventi privati, feste è un immobile abbastanza grande e quindi noi proveremo a metterlo tutto a sistema. Le professioni sanitarie tra realtà attuale, prospettive e future se ne è discusso in un convegno a Taranto. Le professioni sanitarie, un interesse sempre maggiore da parte dei giovani ma soprattutto una richiesta che cresce anche alle nostre latitudini ecco il punto con voce autorevole e l'Istituto Masterform Presidente, che cosa bisogna fare però? In che cosa bisogna specializzarsi e dove bisogna guardare con maggiore attenzione? Bisogna guardare con maggiore attenzione soprattutto alle persone quando si sceglie di affrontare una professione sanitaria a qualunque livello la si voglia esercitare richiederà di sicuro un'attenzione alle persone perché si tratta sempre e comunque di professioni di aiuto. Oggi c'è un grande bisogno di operatori specializzati ma allo stesso tempo ci sono gravi carenze qui a Taranto qual è la situazione? La situazione è drammatica ed è frutto di una scarsa attenzione nei confronti della sanità negli ultimi 30-40 anni le professioni sanitarie possono e sono oggi il futuro nell'ambito anche di una modifica di quello che è il percorso universitario ora stiamo puntando verso non solo una laurea magistrale indirizzo manageriale e organizzativo ma anche un indirizzo clinico e specialistico dove noi abbiamo già un approccio con dei master specialistici che ci consentono di svolgere delle attività più complesse e avanzate Stanti problemi del passato oggi c'è un nuovo governo le richieste e le necessità quali sono? Un adeguamento delle retribuzioni una modifica dei modelli organizzativi e quindi ripensare a una sanità adeguata a una sanità di prossimità che metta al centro la persona assistita Ed è tutto il telegiornale dedicato a Taranto la sua provincia termina qui i titoli ora focalizziamo la nostra attenzione su Brindisi e Leccia Vertice sulla sicurezza Castello Imperiali dopo i recenti episodi di violenza culminati con l'omicidio della 19enne Paolo Stasi un'indagine complessa spiega il procuratore capo De Donno città blindata per i prossimi due mesi dalle forze dell'ordine Il presidente della provincia di Lecce accoglie la carica dei 21 sindaci che sono stanchi di aspettare chiedono risposte in merito alla realizzazione della 275 Una donna fasanese indagata dalla procura di Taranto per aver attestato falsamente di essere un insegnante di lettere Ed ancora ben trovati nuovamente in diretta Vertice questa mattina Castello Imperiali a Francavilla Fontana sulla sicurezza dopo recenti episodi di violenza culminati con l'omicidio del 19enne Paolo Stasi Un'indagine complessa ha spiegato il procuratore capo De Donno città blindata per i prossimi due mesi dalle forze dell'ordine È un'indagine complessa però questa è la sensazione che non sia semplice È un'indagine complessa è un'indagine complessa abbiamo bisogno di lavorare con estrema tranquillità In una città blindata per i prossimi due mesi con presidi di tutte le forze dell'ordine la conferma arriva dal procuratore capo Antonio De Donno Si tratta di un'indagine complessa evidentemente è tutt'altro che lineare e proprio per questo il riservo sui progressi investigativi sull'omicidio di Paolo Stasi è massimo A poche ore dall'autopsia fissata per sabato mattina il mistero sulla morte del 19enne ucciso in via Occhi Bianchi la scorsa settimana resta irrisolto eppure se la stampa abbrancola nel buio la sensazione è che procure i carabinieri siano sulla pista giusta e questo è il primo aspetto emerso a margine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto in trasferta dal prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni Io tengo a precisare che questo episodio gravissimo che ha colpito la collettività di Francavilla non ha nulla a che fare con la situazione di sicurezza generale del territorio Il vertice però è stato incentrato sui maggiori controlli che nei prossimi mesi abbracciando quindi il periodo natalizio interesseranno la città degli imperiali con in strada i reparti speciali di carabinieri guardia di finanza e polizia di Stato Vogliamo tranquillizzare la popolazione e dire che le forze dello Stato insieme al Comune sono presenti e continueranno a lavorare in questo territorio in forma assolutamente intensiva per almeno un paio di mesi e questo dovrebbe speriamo riportare piena tranquillità Nuovo ennesimo sbarco di migranti Ascoltiamo C'era anche un uomo senza vita tra i 102 migranti giunti a bordo di una tante a vela intercettato nella notte durante la navigazione dalla guardia di finanza che l'ha poi condotto a Santa Maria di Leuca Un nuovo sbarco all'alba in Salento questa volta però con un tragico risvolto a perdere la vita pare se un iracheno di 46 anni deceduto durante il viaggio Secondo il medico legale la morte risalirebbe ad almeno tre giorni fa e presumibilmente per cause naturali sembrerebbe che l'uomo fosse diabetico e il decesso si pensa sia avvenuto a causa di una crisi ipoglicemica Il magistrato ha disposto il trasferimento della Salma nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce Immigranti giunti sono prevalentemente uomini 25 le donne e diversi minori non accompagnati provenienti soprattutto da Iraq, Iran, Afghanistan ed Egitto sul posto ad accoglierli i volontari della Croce Rossa italiana una persona è stata portata all'ospedale di Tre Case in codice giallo a causa delle condizioni di salute precarie gli altri invece condotti nei diversi centri d'accoglienza del Salento Stefano Minerva accoglie la carica dei 21 sindaci che sono stanchi di aspettare chiedono risposte in merito alla realizzazione della strada statale 275 E qui oggi dopo quanti anni? 25 anni? E ancora parliamo di 275 io spero che sia un incontro risolutivo Presidente per dare una risposta una risposta oramai definitiva perché se una classe dirigente non riesce a decidersi in 25 anni se la deve fare come la deve fare come non la deve fare vuol dire che non stiamo assolvendo bene ai nostri compiti dal punto di vista tecnico dal punto di vista del governo e dal punto di vista delle amministrazioni comunali Il Presidente Stefano Minerva accoglie la carica dei 21 sindaci che sono stanchi da aspettare ma chiedono risposte in merito alla realizzazione della 275 Abbiamo dato un'ulteriore accelerata al percorso abbiamo chiamato i sindaci alla presenza dei sindaci concordato l'incontro con il commissario per la 275 che è venuto a spiegarci a che punto della situazione siamo a che punto sono i tempi per l'inizio dei lavori sul primo lotto e la progettazione sul secondo ovviamente come sempre abbiamo fatto coinvolgendo i sindaci interessati il commissario il commissario straordinario Marzi ha illustrato lo stato di attuazione del procedimento in corso del primo lotto compreso tra lo svincolo di Maglie Nord di chilometro zero e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase chilometro 23,3 per un importo complessivo di oltre 244 milioni di euro Marzi ha ribadito inoltre durante l'incontro il massimo impegno nel perseguimento degli obiettivi prefissati dopo la chiusura con parere favorevole della conferenza di servizi indetta sul progetto definitivo del primo lotto sarà pubblicato il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori comunque entro il primo semestre del 2023 è una vera chiamata alle armi questa non è una chiamata alle armi ma comunque è un dire per forza muoviamoci anche gli studenti universitari di Lecce hanno aderito alla giornata di mobilitazione nazionale ora decidiamo noi organizzando un presidio chiedono infatti risposte al nuovo governo e alla regione in merito alle diverse criticità riscontrate nelle scuole anche Lecce aderito alla giornata di mobilitazione nazionale ora decidiamo noi lanciata dall'unione e dagli studenti diversi universitari hanno organizzato un presidio allo studium 2000 per chiedere risposte al nuovo governo e alla regione in merito a più criticità riscontrate nelle scuole e nell'università partendo da un'edilizia più sicura e non classi pollaio come quelle attuali hanno evidenziato poi più percorsi di formazione e lavoro una mobilità sostenibile gratuita e più corse serali degli autobus e interventi in tema di benessere psicologico in particolare oggi ci concentriamo su chiaramente l'accessibilità agli spazi universitari e diciamo su un piano generale rispetto al sistema di tassazione all'interno dell'università che purtroppo crea delle grandi difficoltà agli studenti e alle studentesse del nostro Ateneo molti studenti per esempio non hanno la possibilità magari quando hanno lezioni il pomeriggio di magari prendersela con calma magari la mattina alle 6 per una lezione magari alle 4 e quindi questo anche quando lo studio magari è un tempo perso quindi sì mancano corse serali e ne abbiamo bisogno aiutare gli studenti nelle fasce più deboli perché molto spesso ci sono dei prototipi da rispettare oggi a Lecce c'è il ministro Bernini potendola incontrare che cosa le diresti? chiederemmo maggiori finanziamenti per quello che è il sistema innanzitutto universitario e della formazione in genere un maggior supporto per tutti gli studenti universitari per venire incontro a tutte le nostre necessità e ascoltare gli studenti perché appunto ci sono problematiche e molti studenti hanno il diritto allo studio e abbiamo bisogno appunto di essere ascoltati torneremo a parlare tra pochissimo del ministro Bernini oggi a Lecce intanto una donna fasanese è indagata dalla procura di Taranto per avere attestato falsamente di essere un insegnante di lettere ha dichiarato di essere laureate in Bulgaria e che quel titolo di studi l'è stato riconosciuto come valido dal Tar per insegnare in Italia in realtà non era vero e così una fasanese di 41 anni rischia di finire a processo la denuncia presentata nei suoi confronti dall'ufficio scolastico di Taranto e l'indagine avviata dalla procura del capoluogo ionico la donna ha presentato richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie nella provincia di Taranto per le supplenze in materie letterarie nelle scuole superiori e per italiano stori e geografia in quelle medie nel modulo ha allegato il suo certificato di laurea che ha conseguito in Bulgaria e ha attestato di aver ottenuto un riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento in Italia con una sentenza del Tar in realtà il tribunale amministrativo aveva giudicato il suo ricorso irricevibile l'aspirante insegnante così avrebbe dichiarato il falso l'ufficio scolastico di Taranto avendo appurato l'irregolarità ha inviato comunicazione alla procura della Repubblica che ha aperto un'indagine conclusa qualche settimana fa l'insegnante 41enne appartenente a una nota famiglia fasenese rischia il rinvio giudizio per falsa attestazione a un pubblico ufficiale di qualità personali proprie si tratta di una tipologia di reato per cui è prevista la reclusione da 1 a 6 anni sono numerosi gli italiani che si spostano in Bulgaria per conseguire la laurea ma con un titolo di studio conseguito in quel paese non si ottiene in Italia il riconoscimento automatico del livello di istruzione o della qualifica professionale inchiesta Re Artù terminati gli interrogatori parte il processo per Ruggeri Rollo ed altre 20 persone è terminato nelle scorse settimane il giro di interrogatori inerenti l'inchiesta Re Artù ed è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex assessore e consigliere regionale Totò Ruggeri e per altre 22 persone a formularla è stato il PM Alessandro Prontera titolare del fascicolo nell'ambito del quale lo scorso 7 luglio è stata eseguita una misura cautelare a carico di 20 persone gli imputati compariranno davanti al gruppo Sergio Tosi il prossimo 19 dicembre oltre a Ruggeri si tratta dell'ex dirigente dell'AS Rodolfo Rollo di Suolo Margherita Bramato e di altri le indagini sono state condotte dai finanzieri di Otranto le accuse si sintetizzano in un giro di corruzione per ottenere assunzione nella sanità nelle aziende private nell'Arneo e anche per favorire accreditamento di società nel sistema sanitario ci sono inoltre ipotesi di corruzione elettorale e poi anche altre questioni come i presunti favori per l'assunzione del figlio del direttore generale dell'AS Rodolfo Rollo dimessosi dopo la notifica dell'avviso di garanzia è ora destinatario di una misura interdettiva della sospensione dall'incarico di direttore di distretto per un anno misura però che è stata impugnata al riesame dove l'udienza è fissata per il prossimo 25 novembre per quel che concerne l'udienza preliminare di dicembre la procura ha individuato quali persone offese la regione Puglia il comune di Otranto la provincia di Lecce la AS di Lecce i consorsi di bonifica di Ugento e l'IFoggio Erneo e la società Tecnomed di Nardò Oltre mezzo milione di euro per restaurare il faro dell'isola Pedagne di Brindisi i lavori inizieranno nei prossimi giorni e dureranno circa otto mesi ogni città i suoi luoghi del cuore e il faro delle isole Pedagne è certamente un bene molto caro ai Brindisini che hanno un rapporto viscerale con il loro mare il loro porto e i suoi simboli per questo la ristrutturazione del manufatto che avverrà grazie alla stipula di un contratto di appalto tra l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale la ditta Bonfrate di Monteroni che effettuerà i lavori di ristrutturazione e di quelle che fanno piacere saranno realizzati i lavori di consolidamento e restauro delle voltine si provvederà alla sostituzione dei pluviali esistenti e al ripristino degli intonaci ancora alla sostituzione degli infissi alla rivalorizzazione o rimozione delle pavimentazioni esistenti e al ripristino della rampa di alaggio saranno realizzati impianti fotovoltaici sanitari elettrici anti-intrusione e di videosorveglianza l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è di circa 570 mila euro quello complessivo di quadro economico invece di 638 mila euro i lavori che dureranno circa 8 mesi dalla consegna saranno avviati nei prossimi giorni abbiamo iniziato già da qualche tempo e stiamo concludendo i lavori con il recupero della storica stazione marittima che oggi è la sede dell'autorità di sistema portuale adesso un altro tassello del recupero della memoria storica del patrimonio condiviso che è il faro delle pedagne peraltro un'opera che abbiamo progettato con strumenti più avveniristici che ci siano è tutta progettata la riqualificazione con il BIM il contratto l'abbiamo firmato a breve verrà restituito alla cittadinanza torniamo a parlare dunque del ministro Anna Maria Bernini a Lecce al premio nazionale delle arti voi sapete che gli AFAM che sarebbero appunto gli enti di alta formazione artistica musicale coreutica che oggi celebriamo quindi accademie e conservatori sono in assoluto la finestra sul mondo più panoramica che l'Italia abbia sono i più internazionalizzati ci sono studenti stranieri che vengono a studiare in Italia ci guardano dall'estero quindi io ho intenzione ed è un impegno che ho già assunto con loro di valorizzare molto questi istituti l'Accademia di Belle Arti di Lecce designata dal Ministero dell'Università e della Ricerca ha presentato la sedicesima edizione del premio nazionale delle arti per promuovere la storia della cultura artistica del nostro paese presenti le massime cariche politiche e distruzionali Presidente sedicesima edizione di un appuntamento ormai diventato punto di riferimento a livello nazionale per consacrare anche l'arte e la cultura in tutte le sue forme ma le accademie hanno l'ambizione di essere il punto di riferimento artistico e culturale del nostro paese Create in Italy è lo slogan che abbiamo lanciato perché l'arte si crea in Italia e si crea soprattutto nelle accademie dove i ragazzi imparano questa creatività e questa bellezza che poi riusciamo a portare nel mondo è un grande onore per noi ospitare questa edizione del premio delle arti ma soprattutto è un grande onore avere la prima visita del Ministro Bernini nel mezzogiorno nella nostra accademia credo che sia una formula che farà capire quanto le accademie hanno bisogno di supporto e di sostegno perché rappresentano uno degli aspetti più importanti del nostro paese ne auguriamo la sedicesima edizione del premio nazionale delle arti promosso dal Ministero dell'Università della Ricerca ed è dedicato agli studenti delle accademie dell'alta formazione artistica che hanno scelto l'alta formazione artistica come percorso di studio universitario quindi per il loro futuro per la loro professione e per la loro carriera Appuntamento nazionale alla sedicesima edizione Sì è un festival molto importante che coinvolge tanti luoghi della città è una bella collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti Ed è tutto il nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto per averci seguito non andate via perché tra pochissimo l'appuntamento è con lo sport con in studio la collega Cristina Cavallo buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti